Hello people, oggi sono qui per un nuovo video, oggi sono qui per fare un video tutorial molto breve se vi faccio un video tutorial che vi faccio aiutato quando escono le mode su Musical.ly questa è la green screen challenge e ho appena messo il video, doveva ancora pubblicarsi però so già che me lo chiedete in tantissimi allora, in qualche parole è molto semplice, dura qualche secondo questa green screen challenge basta un cartoncino, una maglietta o qualcosa di verde, ho usato un coperchio di una scatola verde infatti è enorme, però vi lascio il mio video qua mentre parlo intanto e vabbè, bisogna scaricare questa applicazione di cui non mi ricordo il nome ma vi lascio lo screen dell'applicazione qui, proprio da App Store e non so se si può scaricare anche sul Samsung, però penso solo sull'iPhone in caso che uscirà su Samsung ve lo scriverò nella descrizione, però non sono sicura e poi da qui vai su Ad, cioè fai la più poi c'è scritto Snapchat, qua comunque c'è lo screen della pagina, quindi lo vedete Snapchat Stories poi fai Ad, ossia aggiungi, Camera Roll, metti il video, devi fare due video uno senza cosa verde e uno con lo scatola, qualsiasi cosa verde e quello senza il primo video che va messo poi dopo c'è scritto quello che vedete perché non mi ricordo le cose precise ah sì, video sticker fai Ad, li si soprappongono, intanto abbassa anche il volume che c'è un volume, l'abbassate solo uno o l'altro, lo lasciate perché sennò non si sente la musica giustamente, poi c'è scritto Gwyn qualcosa ed è lì il video è composto, si crea da solo e quando si sta così si sposta e il mio è venuto un po' malino perché il mio era troppo grande non era totalmente verde cioè sì, era, ho detto troppo verde non era totalmente verde, cioè sì, però aveva qualche macchiolina di smalto cosa così, quindi non era totalmente verde quindi è venuto un po' spoccato e niente, speriamo che questo video vi sia stato utile spero che sia così ovviamente se è così lasciate un bel pollice di su, iscrivetevi al canale e commentate quando vedete questo video con qualsiasi persona ho voluto fare subito il video prima che lo facesse qualcun altro non so se su youtube c'è io non ho tratto da nessuna parte questo tutorial l'ho scoperto da sola e niente, un bacione e al prossimo video goodbye people